Gli emendamenti del Movimento 5 Stelle sono stati bocciati oggi in aula? Bocciati ma non solo bocciati, il discorso è che non vengono ascoltati, non interviene un solo deputato di un'altra forza politica che vota contrario all'emendamento per spiegare le ragioni per cui vota contrario all'emendamento. Il dibattito sano all'interno di questo Parlamento che si immaginavano i nostri padri costituenti non c'è.